Mi perdonerete, ma dovete perdonarmi per forza di cose, perché sono un pochino in ritardo. Già ieri vi ho lasciato senza contenuto, però era domenica, avevamo già parlato della nazionale, quindi ho deciso di lasciar passare un attimino il discorso. Però oggi torniamo, ripeto, con un po' di ritardo, ad realizzare alcune situazioni, perché poi le cose succedono durante questo Euro 2024, sembra che tutto sia fermo, ma non è mica proprio così. Cioè, neanche lontanamente. Intanto c'è un discorso interessante sugli extracomunitari, di cui parlava Romeo Agresti, l'ho letto su X poco tempo fa, pochi minuti fa, e cioè che la Juventus, tesserando Douglas Luiz, che dovrebbe essere un colpo praticamente in chiusura, e il tesseramento di Astic, andrebbe a concludere gli slot relativi agli extracomunitari. Rimarrebbe a disposizione la possibilità di tesserare comunque un calciatore albanese e o un calciatore inglese. Quindi delle regole un pelo differenti per queste due nazioni, anche se non fanno parte dell'Unione Europea. E c'è interesse nel mantenere vivo quella pista inglese, dato che sappiamo che la Juventus è su Greenwood, anche se sembra per il momento rifilata. E su Sancho. L'altro giorno qualcuno mi ha detto nei commenti, ma secondo te, Sancho, come può venire la Juve che guadagna 10, 12, 13, 14 milioni di euro all'anno? Semplice. Non li guadagnerebbe. Cioè, o Sancho si trova una squadra che gli garantisce quella cifra e che va ad accontentare anche il Manchester United dal punto di vista del cartellino e che gli assicura anche la permanenza del calcio europeo, perché sono convinto che a Sancho quelle cifre in Arabia potrebbero andare ad offrire, ma un classe 2000 con un talento come il suo accetterebbe di andare in Arabia 24 anni e sarebbe molto deludente. Quindi, chi è la squadra che gli dà quei soldi? Cioè, anche se ovesse essere scattato al Borussia Dortmund e rimanere dove in Germania ha fatto tanto bene, secondo me il Borussia gli va a dare quelle cifre? Io credo proprio di no. Quindi deve anche mettersi un po' nell'ordine delle idee, che se vuole rimettersi in gioco dal punto di vista sportivo, il portafoglio piangerà un po' più di miseria, anche se comunque alla Juve secondo me andrebbe a percepire intorno ai 5 milioni di euro, quindi piacerebbe tanto piangere miseria con 5 milioni di euro all'anno in tasca dopo averne guadagnati 12, 13, 14 all'anno, anche magari senza giocare. Sarebbe una prospettiva molto molto bella. Però alcuni giocatori devono capire che se non hanno possibilità di rimanere a squadra in cui sono, e la conferma di Tenag sposta Sancho ancora una volta da Manchester, o trovano una squadra che è accontente in tutto e per tutto dal punto di vista sportivo, economico e economico anche al club, oppure riducano quelle che sono le richieste. Stop, non c'è un'altra strada. Quindi, o così o pomì, si diceva una volta, la Juventus andrebbe a fare, nel caso la sua offerta, da prenderlo e lasciare. Tra l'altro Sancho era stato molto vicino alla Juve già a gennaio, poi non se ne fece niente per continuare con il 3-5-2, che fino a quel momento aveva dato dei risultati consecutivi, anche se c'era proprio l'impressione che servisse qualcosa di più, servisse a dare un'accelerata. Sancho sarebbe stato un'accelerata importante, tant'è che il Borussia poi arriva in finale di Champions, ma questa è un'altra storia. Kostic, dai, torniamo a parlare un po' dei nostri, torniamo a casa Juve con una brutta notizia, perché ieri Kostic è uscito con le lacrime agli occhi, in occasione della sconfitta per 1-0 della sua Serbia nei confronti dell'Inghilterra. Gol, neanche a dirlo, Jude Bellingham, che poi alla fine si è scambiato la maglia con Dusan Vlaovic, quella foto Gaza da morire, però Kostic è uscito per un infortunio. La gamba sinistra, proprio in questi istanti, si sta sottoponendo a degli accertamenti medici e a breve sapremo quella che è la prognosi, anche se in realtà quello che trappela dagli ambienti serbi è che l'europeo di Filip Kostic è già terminato. È allucinante, questa roba è incredibile. Siamo riusciti, anche quando non giochiamo, ad avere i giocatori che si spaccano. Kostic, giocatore che è palesemente fuori dall'orbita Juve, nell'ambiente Juve non c'è la volontà di mantenere Kostic il rosato, che era stata una richiesta di Allegri per ficcare un giocatore lì nel 3-5-2. Però è ovvio che l'infortunio di Kostic poi porta delle riflessioni nella serie. Sì, ma un calciatore infortunato, ora vedremo per quanto, o comunque con dei problemi fisici, diventa meno appetibile per le altre squadre. Vediamo se questa cosa sarà un ostacolo oppure no. È intanto un grosso bocca al lupo a Filip, perché non dobbiamo soltanto guardare il lato egoistico della situazione, cioè l'accessione lato Juve, ma pure quella che è la sua carriera. Ed è sicuramente una delusione non poter continuare questo europeo. C'è un'asta per Calafiori? Punto di domanda. Si è parlato di alcuni interessamenti lato Inghilterra, lato Premier League, lato Chelsea, alcuni intermediari che sarebbero stati presenti in occasione della partita tra Italia e Albania. Io ho letto tantissime pagelle di Calafiori insufficienti, cioè da tutto sport alla Rai e non solo. Ho sentito Calafiori insufficienti perché le perderei Manai sul finale. Ragazzi, per me ha maggior ragione il calcio di oggi, ha maggior ragione con Tiago Motta appena annunciato come allenatore. Non bisogna mica solo ragionare su queste cose qui. Il difensore oggi non fa solo il difensore. Questo poteva essere una cosa fino a dieci anni fa e già lì si stava iniziando ad andare da un'altra parte, ma dieci anni fa il difensore faceva il difensore. In realtà, il bel ricordo lo vive di Conte, iniziava sempre da dietro l'azione. Poi c'era ancora la regola diversa da come è oggi, quindi non potevi nemmeno passare la palla in aria. Oggi diventa ancora più un'agevolazione iniziare l'azione da dietro con la possibilità tra il portiere e il difensore di iniziare l'azione da lì. Però bisogna avere organizzazione, tecnica, e soprattutto intraprendenza. Calafieri queste cose ce le ha. Infatti non credo che sia una coincidenza che i club di Premier si muovano su di lui. Poi lui, da quello che risulta, almeno quello che viene chiacchierato, raccontato, ha la preferenza per la Juve, perché rimarrebbe in Italia, perché è un top club, perché la Juve sta buttando un ottimo progetto, perché ovviamente Tiago Motta sposta e non poco, però anche ieri sera Fabrizio Romano ci raccontava di questa voglia di Calafiori di vestire la maglia della Juve, di questa poca voglia del Bologna, di cedere i giocatori importanti che hanno permesso la qualificazione in Champions, qualificazione storica, ma soprattutto questa clausola è legata al Basilea che va a sgonfiare quello che entrerebbe nelle tasche del Bologna. Questo è il vero grosso problema, ma lo sapevamo. Io sono dell'idea che Calafiori sia un giocatore, ma ve l'avevo già detto, il mio unico dubbio su Calafiori era proprio che ogni tanto ha quei cinque minuti di blackout in cui o lascia una marcatura o in fase di impostazione sbaglia dei palloni sanguinosi. L'abbiamo visto per tutta la Serie A quest'anno. C'è stata una clamorosa, mi pare, in occasione di Frosinone-Bologna che finisce a 0-0 con Calafiori che veramente fa un pasticcione e regala la palla al Frosinone. L'abbiamo visto anche in occasione della penultima amichevole della Nazionale, prima dell'europeo, con Calafiori che va a giocare, penso la sua prima o comunque seconda perché era entrato partita con la maglia nazionale in fase di impostazione e regala il pallone di avversari che per fortuna non riescono a concludere la rete con successo. Spende tanto. Calafiori spende tanto. Non fa solo il difensore. L'abbiamo visto anche banalmente in Bologna e Juve. Questo ci ha fatto doppietta. È andato a pressare mentre partivamo noi da dietro col pallone ed è andato a farlo scavino al portiere. Cioè il concetto di difensore centrale è ben distante anche perché questo comunque nasceva a terzino e le sue sgroppate, le sue spinte le fa anche per dire a Roma contro contro De Rossi in quello scontro vinto a Bologna per 3-1 l'assist del 1-0 nasce al piede di Calafiori che va sul fondo e crossa la terzino l'assist dell'ex. Quindi secondo me bisogna un po' concentrarsi su quelle che sono le caratteristiche interessanti di questo ragazzo che sta emergendo e sta emergendo molto bene. Ho letto delle opinioni anche su Di Lorenzo che vi dicevo boh a me non è piaciuto l'altra sera qualcuno mi ha detto sì ma quanti anticipi ha fatto? Sì sono d'accordo anticipi anche molto molto buoni devo sottolineare però ragazzi troppo elementare cioè la vedevi la differenza tra i due braccetti perché bene o male Calafiori e Di Lorenzo facevano i braccetti quando Chiesa si alzava nel cercare la giocata diversa cioè Di Lorenzo era un continuo la passo a Bastoni oppure la passo a Chiesa oppure la passo a Giorginio o Barella quello che sta orbitando dalle mie parti in quel momento lì Calafiori cercava di saltare la linea di passaggio cercava di tagliare fuori un reparto degli avversari per mettere l'Italia nella condizione di andare verso la porta guardandola quindi secondo me bisogna cercare a maggior ragione in un modulo così fluido in un calcio così moderno come quello che vuole proporre Spalletti e come è riuscito a fare Italia al primo tempo e non nel secondo di essere anche un po' più intraprendenti uso la parola intraprendenti che porta poi anche a sbagliare ragazzi cioè il fatto che il difensore centrale che prima faceva dieci passaggi oggi ne fa cinquanta prima era più difficile vederli sbagliare magari due o tre passaggi importanti ma perché semplicemente non li facevano ora che invece il calcio ti porta addirittura a giocare col portiere per avere un uomo in più queste sono le cose che vuole Tiago Motta che vogliono tutti gli allenatori che seguono questa filosofia un po' più moderna uno come Di Lorenzo secondo me può fare molto bene anche la Juve ma servirebbe anche qualcosa in più così come molto bene la Juve per me potrebbe fare Chiesa ancora io rimango sempre in questa idea nonostante Sancio nonostante Greenwood nonostante i tanti esterni che si stanno monitorando l'altro giorno qualcuno mi ha detto sì ma Chiesa non l'ha mai calciato in porta però ragazzi ha fatto praticamente l'esterno cioè l'ha fatto l'attaccante non l'ha fatto nemmeno l'ala l'ha fatto l'esterno è stato completamente a disposizione del gruppo giocatore che va in uno contro uno e mette la palla in mezzo a volte anche buttandosi la palla in avanti a volte anche intestardendosi guardando basso ma questo è Federico Chiesa però efficace cioè quello che deve fare lo fa creare superiorità numerica creare quel pericolo nella linea avversaria questo è poi bisogna prendere una partita come simbolo come riferimento vediamo questo europeo di Chiesa come si risolve perché secondo me farà un ottimo europeo Federico Chiesa se Spalletti avrà intenzione di utilizzarlo lì che per me è il modo giusto e abbiamo la notizia che Chiesa e il suo agente parleranno con la Juve al termine dell'europeo quindi tutte le altre trattative rimangono un po' in stand by trattative lato Napoli principalmente che non solo di Lorenzo ma ieri sera c'è stata anche una sorta di piccolo terremoto interno tant'è che l'account twitter ufficiale del Napoli alle 12.42 quindi a mezzanotte 42 è stato costretto a rilasciare un comunicato perché perché il padre e la gente che sono due persone diverse il padre non è la gente il padre è la gente di Gwarascheia avrebbero chiesto l'accessione pubblicamente sarebbero andati a dire noi ce ne andiamo a Napoli e il Napoli ha scritto in riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Gwarascheia e del padre il calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società Gwarascheia non è sul mercato non sono gli agenti o i padri che decidono nel futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società calcio Napoli con tre punti esclamativi fine della storia punto ora a me non è piaciuto il modo la forma è una società di calcio anche il fatto di rispondere subito però va bene con i tre punti esclamativi il fine della storia cioè secondo me il Napoli sbaglia da questo punto di vista per come si pone poi per me è giustissimo il ragionamento dove fanno cioè tu hai un contratto con noi è benissimo questo contratto arriva fino a qui non siamo intenzionati a cederti poi sappiamo perché lo sappiamo nel calcio moderno con i procuratori che spostano i giocatori come pedine con i calciatori che hanno dal loro anche dalla loro parte la volontà di rimanere o no perché è difficile vedere dei giocatori che rimangano dentro le squadre quando vogliono andare via quando hanno già espresso la volontà di andare via è difficile io non credo che a Napoli siano sorpresi da questa cosa traduco non credo che Antonio Conte si sia messo le mani in testa ieri sera cioè quando Antonio Conte ha firmato il suo contratto con il Napoli è stato illustrato il progetto sono convinto che gli avessero già detto guarda Antonio c'erano queste situazioni qui di Lorenzo Bo vuole andare cosa facciamo Vara vuole andare cosa facciamo Osimene vuole andare cosa facciamo e che Conte abbia detto va bene allora se cediamo questo questo e quell'altro allora si va su questi altri profili per quello che dico chiesa monitoriamo teniamolo d'occhio perché chiesa potrebbe essere l'erede di Varascai a Napoli non mi sorprenderei di questa cosa qui però è un discorso che si farà dopo l'europeo così come l'agente di Varascai ha detto terminiamo e poi vediamo che cosa succede insomma qualcosa si muoverà ed è ovvio che il calciomercato che comunque non è ancora entrato nel vivo e come potrebbe inizierà a scaldarsi secondo me tra una settimana e dieci giorni tra una settimana e dieci giorni sarà tutto rovente tant'è che non potremo neanche toccare il mouse o il telefono per andare a aprire il video e sentire cosa diciamo un giorno lui si è messo avanti lui si è messo avanti con Douglas Lewis si è messo avanti con le trattative interne dirette con Calafiori e con Cobb Mainers si è parlato di Zirzee la Juve avrebbe anche sondato la disponibilità di Morata che vuole tornare in Italia quindi la Juve tornerebbe di corse insomma ci sono delle piste aperte per la Juve bisogna soltanto chiuderle bisogna soltanto trovare gli accordi giusti intanto McKennie e Ealing stanno discutendo con l'Aston Villa per cercare di portare a termine anche il loro aspetto contrattuale tra Juve e Douglas Lewis invece è tutto a posto vediamo quando si schiuderà questa prima trattativa e vedremo quale sarà ufficialmente il primo acquisto per Tiago Motta perché sono curioso di vedere chi sarà poi il primo essere ufficializzato Di Gregorio che è un altro di quelli che abbiamo lì senza dimenticare che la questione di Szczesny ancora è sospeso ma perché? perché la Polonia sta giocando quindi ce ne sono tante di cose che si sistemeranno al termine di questo girone dell'europeo perché inizieranno a tornare a casa diversi giocatori e va bene le vacanze però capire dove gioca l'anno prossimo secondo me è prioritario e interessa tanto a questi atleti ragazzi questo è tutto per oggi poi magari uscirà qualche informazione strana stasera e ci ritroveremo ci vediamo presto direi domani mattina o domani in pausa pranzo con tutte le altre novità ciao a tutti